A lei cosa porto, signore? Prendo una shepherd's pie. Mi dispiace, ma non è compresa nel menù. Beh, avete patate? Sì. Burro? Sì. Panna? Sì. Sale? Sì. Pepe? Sì. Agnello? Sì. Cipolla? Sì. Aglio? Sì. Carote? Sì. Uova? Sì. Farina? Sì. Rosmarino? Sì. Timo? Sì. Brodo di pollo? Sì. Mais? Sì. Piselli? Sì. Spada laser? Possiamo mai dimenticare Star Wars?